Ha piantato il primo albero lungo i binari della ferrovia Circumetnea in pieno centro a Catania ad aprire le danze invitando a fare altrettanto, è stato il pittore Claudio Arezzo di Trifidetti. L'iniziativa è denominata Un metro quadrato di bosco ed è stata proposta dall'artista Claudio Arezzo alla Circumetnea ha piantato stamattina il primo albero, una raucaria, installata alla fine del binario della stazione della Circum in pieno centro a Catania, un progetto nato per favorire la cultura, volta a tutelare l'ambiente, soprattutto nel contesto urbano. L'albero vuole simboleggiare la rinascita e chi lo vorrà potrà donarne uno, alimentando concretamente l'iniziativa. L'arte entra in azione. Oggi il primo pensiero che l'arte si deve porre è trovare una soluzione. Il pianeta ha bisogno di alberi. L'idea, un metro quadrato di bosco, è un'idea di una goccia di rugiada che vede questi treni non solo trasportare persone, emozioni, sentimenti, ma trasportare il nostro futuro. Attraverso questa ferrovia Circumetnea, patrimonio della nostra città a livello paesaggistico, patrimonio della Sicilia, si può mandare un'idea, io spero che venga accolta a livello nazionale, a livello globale, perché i treni diventino l'indomani i protagonisti del rimboscamento planetario. Questo è il mio sogno. Da questo punto zero, un metro quadrato di bosco, questa è la prima pianta. Questa pianta rappresenta nel mio cuore Francesca Terranova, che è una mia zia, che aveva questa pianta nella terrazza. Ora io dico, quante piante abbiamo, quanti alberi abbiamo dentro i cortili, dentro, sopra, abbiamo alberi incredibili invasati da 20 anni, 30 anni, donateli alla ferrovia Circumetnea, me ne prenderò io carico o un responsabile della ferrovia per essere impiantati lungo il percorso della ferrovia. Si realizzerà un percorso di land art. Sicuramente è un messaggio positivo. L'albero, peraltro, è un simbolo di vita, un albero così bello, destinato probabilmente a soccombere all'interno di un cortile, di un palazzo. Qui adesso potrà rivivere ed è anche un modo per dare un segnale a tutto il resto del mondo, insomma, che purtroppo oggi le foreste bruciano. Quindi magari se qualcuno potesse avere spazi per piantare un albero sarebbe una cosa appunto molto bella. Anche perché tutto questo avverrà in pieno centro cittadino? Qua siamo, ricordiamolo, all'altezza della stazione, alla ferrovia Circumetnea, proprio dove finisce il binario. Esattamente. Questo possiamo chiamare il punto zero, l'inizio della nostra linea ferroviaria, che da qui poi si estende verso la cintura dei paesi Ettennea, arrivando fino a riposto.